Ok, arrivo. Pronto? Jill, stai bene? Brad, cosa c'è? Senti, devi andartene da lì. Cosa stai dicendo? Non c'è molto tempo. Vattene via da lì. Ora, subito. Ok, fammi prendere... Cosa stai dicendo? Che cazzo era quell'è? Devo entrarmi qui. Ma cosa? Aiuto! Aiutatemi! Minutario. Sto minutando! Non! 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 Ok. Ok. Oddio Jill, da questa parte Brad Stai bene? Che cos'era? Non ne ho proprio idea Pare che ce l'abbia con gli unici due stars rimasti in città Tu e io Io me la squabio Guarda Tinto, più tempo passa, più siamo fottuti Com'è potuto succedere? Non lo so Ma i casini non arrivano mai da soli Molto peggio di Hartley Ehi, aspetta Siamo qui Dannazione Non posso crederci Come ha fatto l'infezione a propagarsi così? Brad Stai attento Di qua Quanti cazzo sono La porta sul retro, vai Brad Merda Non pensaccia adesso Dobbiamo andarcene, Brad Avanti Jill Sappiamo come finirà No, ti prego Siamo ancora una squadra Certo Allora non mandare tutto a puttane come me Vabbai Perdona Scusami Mi Mi Oh, è il piccolo! Raggiungi il tetto del parcheggio! Il parcheggio? Ok. Signore, sta bene? No! Indietro! Non ti avvicinare! Non ha sentito! Un elicottero sta venendo a salvarci! Salvarci! Via, non mi muovo da qui! Il parcheggio è qui vicino. Possiamo andarci insieme. Un posto sicuro! È qui! Destro! Non! 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 Merda! Non! Non! No! No! Merda! Merda! Non! 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 Niente! Non! Non! Scusami! Scusami! Parti, cazzo! È il mio turno, stronzo! Non! È il mio turno! È il mio turno! È il mio turno! Ehi, tranquilla. Ci sono qua io. Chi sei? Cosa stai? Sono Carlos. Ti porto via da qui. Coraggio! Andiamo in un posto sicuro. Forse siamo al sicuro. Lo spero. Qui portiamo i sopravvissuti. Qui dove? Stiamo usando un treno della metro come rifugio. È sicuro. Sto bene. Ehi, non mordo, sai? Capisco. Andiamo. Oh, non ci credo. Chi è il coglione che l'ha chiusa? Mi spiace, ci docca fare il gioco. Ehi, cosa diavolo era quel mostro? Non lo so. Ma hai visto nulla di simile. Ma non è un zombie. Farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Non adoro i tipi ostinati. Per niente. È tutto tuo. Tranquilla. Sei buone mani. Sono della divisione contro misure minacce biologiche dell'Ambrella. UBCS. Cosa hai detto? Che cazzo hai detto? Siete voi la causa di tutto questo? Ehi, ehi, ehi. Cosa vuoi dire? Sei libera di non fidarti. Ma io devo andare a rifugio. Vieni con me. Avanti. Da questa parte. Capitano. Alla signorina serve aiuto. Carlos. Non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Sai che è un membro dell'Elite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. Piacere di conoscerti, Jill. Sono Michael Victor, comandante del plotone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere gli civili. Ok. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata. Tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire. Mi correggo, trasformarsi. Il mio plotone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Ringrazio il tuo datore di lavoro per questo. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo fare evacuare i sopravvissuti. Ma ci serve aiuto. Non possiamo farcela da soli. Va bene. Ci sto. Ma è per loro che lo faccio. Non per voi. Oh, ehi. Bene. Siamo sulla stessa barca. Grazie, Jill. Ok, super star. Prendi questa. Servirà per tenerci in contatto. So cos'è una radio. Stabiliamo le priorità. Ti devi equipaggiare. Sali al piano di sopra. Troverai dei rifornimenti. Ok.